Come sai Mauro uno dei miei problemi è il tempo e non per niente oggi abbiamo qui una bottiglia che si chiama Controtempo. L'azienda è un'azienda dei colli piacentini. Pensa che è un'azienda che fra pochi anni festeggia 500 anni d'età. Però sarà il caso di andarla a trovare. La cosa che mi hanno raccontato è che usa questo vitigno che si chiama Ortrugo. Diciamo che l'Ortugo è uno dei vitigni assieme al Guturnio, autotoni tipici veramente che caratterizzano quella zona. So che ne fanno 6.000 bottiglie. È in località al Baretto nel comune di Siano Piacentino. Siamo a 200 metri sul livello del mare ma la vera particolarità è che i vigneti sono con una pendenza del 15 per cento perciò diciamo coltivare questa vigna c'è un bel lavoro. Stiamo parlando di agricoltura eroica di fatto insomma. Stiamo parlando di un'agricoltura sicuramente fatta a mano sicuramente non facile. Beh questo comunque è un metodo Martinotti ma quindi viene fatto rifermentare in autoclave. Viene fatto rifermentare in autoclave anche se come particolarità ha che per far ripartire la fermentazione non vengono aggiunti zuccheri ma del mosto dolce dello stesso vino. Ho capito quindi è una particolarità. Sì è una cosa diciamo non così usuale. Però tu parli parli e invece non assaggiamo. Eh assaggiamo. Io la prima cosa che sento è un po' di idrocarburo. Di fatto è la prima nota che si sente. Non ha sentori particolarmente fruttati ma comunque ha sentori equilibrati, piacevoli, queste note di idrocarburi un po' di nota speziata. In bocca mi piace molto più che al naso. Ha una sensazione molto piacevole. Sai che la piacevolezza è un parametro che non si usa ma secondo me si dovrebbe usare e questo è veramente piacevole. Io devo dirti che a me piace, è equilibrato. Sento un po' di un po' di vegetale direi quasi. La nota vegetale può sicuramente ricondurre a delle foglie di tè verde, può ricondurre al gelsumino però di fatto quello che secondo me è la nota da elogiare è questa bollicina fine, questa facilità di beva. Un prodotto che si beve facilmente è un prodotto adatto ad ogni situazione. Questo è un brut, ne vengono prodotte 6.000 bottiglie. L'abbinamento classico può essere decisamente un vino a tutto pasto, da un risotto a base di frutti di mare alla classica aurata o branzino, un pesce bianco leggero e delicato. Quindi ringraziamo l'azienda Mossi 1558 e quindi cin cin. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!